Loro hanno preso, sì, cibo da barco, ma hanno fatto come privato. Tu pensi? Sì, perché loro non possono sedersi su questi tavolini vicino. Perché? Perché questi non sono di barco. Ma come nel bar? Guarda! Ma questi tavolini non sono del barco. Questi sono dei tavolini. Ma questo è barco? Sì, allora i ragazzi sono noi stessi. Sì, ho capito. Oh, non ho! Ma non ho! Ma non ho! Guarda, questa è barco. Questa è barco. Questa è barco. la barco è barco. Il bel don diarco è barco. Perché non c'entra niente per a volte qui? Sì. Ma che no non c'entra? Beh, come dovrebbe essere nella vita fornile! Sì, sì, proprio come la vita fornile! Ma perché dovrebbe essere dapp chase. Sì, doveva prima? Tu cosa come viva? è bella amore mamma mia bellissima è bella amore proprio come prima di coronavirus ma sì come dovrebbe essere dappertutto è giusto così ma vedo che comunque io ti dico una cosa qui a Rino se non sbattono più i coglioni è sì, è sì, è sì, è sì è sì allora è il castelletto? sì è quello questa? comune? comune, comune ma chi sa amore se tu non sa chi sa? no, no, no è un po' fresco e bene è un po' fresco e bene è un po' fresco e bene Allora, andiamo ad altra stelle? Mi sembra che basta. Che ne pensi? Allora, andiamo a mostrare come non c'entra niente. Allora, andiamo a mostrare come non c'entra niente. Albere di Natale hanno fatto da nostre città più uguali. Allora, andiamo a guardare cosa hanno fatto qui. Allora, andiamo a guardare cosa. Allora, andiamo a guardare cosa. a dei viaggi non fiammi Allora Tantidonia Guida Spanioli Allora prendiamo tutto nero Oh si ora sconti Non riesco a capire proprio nulla Come? Non riesco a capire proprio nulla Ufficiale sconti dopo 30 Ma invece non è iniziato tutto Non riesco a capire Non riesco a capire Non riesco a capire Come? Come si fanno! Come si fanno! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, anche qua. Guarda che carino, amore. È carinissimo. Sì, anche qua. Sì, anche qua. Sì, anche qua. Va bene, vediamo. Sì, anche qua. Sì, anche qua. Sì. 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 Sì.